Nome? Simone. Cognome? Mariani. Età? 21. Città natale? Umbertide, provincia di Querugia. Lavoro? Barteggia. Classico o freestyle? Freestyle. Perché? Perché io sono molto libero. Nome del locale? Caffè da me. Cosa ti piace del tuo lavoro? Tutto. Tutto o cosa? Mi piace il modo di approcciarmi con la gente, mi piace il modo di comportarmi dietro un bancone, mi piace essere picco dietro un bancone. Hobby? Hobby? Fare l'amore. Oh, il nome del tuo cocktail Absolute? Absolute Rouge. Perché dovresti vincere tu? Perché sono io, l'Absolute Mixologist 2010. 10. Cosa vuoi dire a chi ti segnerà sul web? Cosa vuoi dire? Ma, beh, la qualità fa sempre un buon effetto, no? Fai un saluto? Ciao.